...parlando, quattro squadre, tre a livello nazionale e una internazionale, la nazionale Vietro Unita, che si aprirà, che ancora abbiamo dato già il benvenuto, qui con noi da 15 giorni per preparare di Asa Inter Games, dove dovrà giocarsela contro la Palestina e il Libano e lavoriamo in tanta fortuna di essere vittorosi. Bene, le altre squadre che verranno mette a questa padrona di loro sono la Teraresi Calciaciclo, è quale chiede l'applauso, che gioca anche in casa, e poi il calcetto Poggi Borsese, a quale vediamo il benvenuto alla torta del prossimo calcio, la Cicli. E allora, di noi subito, di dare inizio a questo premio giocistico, la serata con la Teraresi Puzzle Time, dunque, amici sportivi, abbiamo visto l'esibizione della società ginnastica Coccinella prima dell'inizio del torneo internazionale qui a Teraresi Calciaciclo, al Palazzetto Comunale, un torneo quadrangolare con formula all'italiana, quindi in pratica avremo tutte le squadre che giocheranno tutte contro tutti. La classifica finale, la vincitrice del torneo, verrà appunto data dalla somma dei punti ottenuti, tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e ovviamente nessun punto in caso di sconfitta. Per quanto riguarda la presentazione delle squadre, già a centrocampo la Puzza al Teranovese, la nazionale vietnamita. Per quanto riguarda il Poggi Bonzi, si sistema ovviamente dietro perché il Poggi Bonzi giocherà successivamente contro il Grosseto che è leggermente in ritardo e intanto ascoltiamo l'inno vietnamita. per quanto riguarda il Poggi Bonzi. Ino Di Mamelli ovviamente per quanto riguarda Puzza al Teranovese con Puzza al Poggi Bonzese e Atlante Grosseto che abbiamo detto starà in questo momento arrivando perché avuto un contrattempo la squadra maremmana ma arriverà appunto in tempo per disputare il torneo. الج就 zusammen. E' la trattamento deiudenzi quindi fondamentali arrivano Ilocuolo puzza al 13 las cui ta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è solo il quadrangolare maschile ma anche quello femminile che verrà comunque presentato dopo una esibizione della ginnastica coccinella con appunto gare che si disputeranno. Nella forma del triangolare invece. Ma noi adesso concentriamoci su questa prima gara. Fuzz al terrenovese contro nazionale del Vietnam allenata dal commissario tecnico Sergio Gargelli, commissario tecnico italiano. Tra l'altro di grande esperienza nell'ambito asiatico perché ha guidato anche la squadra giapponese alla conquista della Champions League. E' da tre anni alla guida della nazionale del Vietnam Sergio Gargelli. L'anno scorso non ha partecipato per un punto ai campionati del mondo di calcio a 5 che sono stati poi vinti dalla Spagna. Comunque comunque una grande crescita per questa nazionale che appunto è da 15 giorni qui a Terra Nova Bracciolini. Lunedì e martedì affronterà in amichevole la nazionale italiana per poi preparare appunto a settembre gli Asian Indoor Games dove affronterà il Libano e la Palestina appunto in quello che è il primo turno di questa competizione. Si comincia dunque 25 minuti.